Idea Web TV con Alessia Midriano dopo la bellissima finale contro Marignano che porta la LPM BAM Mondovì direttamente a Verona per la tua prima finale di Coppa Italia come hai scritto sui social, quindi una grandissima emozione. Sì, è stata un'emozione veramente grande perché ci abbiamo lavorato tanto e come primo obiettivo esserci arrivate così è veramente bello. Dopo una partita del genere è veramente bello. E ci avete messo il cuore perché insomma tanti di voi si sono proprio anche commosse alla fine della partita e quindi anche domenica 3 febbraio ci aspetteremo le stesse emozioni, anzi anche di più, a Verona dove sono invitati tutti quanti a partecipare. Tutti quanti venite a Verona domenica 3 febbraio alle due e mezza. E invece questa domenica sarete in trasferta per concludere il girone di ritorno contro Orvieto che insomma qualche problemino lo aveva dato il girone di andata, quindi andrete a Canite. Sì, andremo a Canite, noi vogliose di continuare il nostro gioco che è migliorato tantissimo e troveremo una squadra agguerrita perché avviene da due risultati negativi tra cui appunto l'eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta con Soverato e quindi ci aspetta veramente una battaglia. E allora noi vi seguiremo come sempre e penso tutti quanti. E a presto, grazie. Grazie.